Combattere l'emergenza economica e occupazionale con un deciso e immediato cambio di rotta. Così chiedono CGL e CISDW al nuovo governo, i segretari torinesi presentando la festa del 1 maggio. Dopodomani annunciano una manifestazione bis sul lavoro il 10 maggio. Non solo parole, ma obiettivo di una lotta iniziata con lo sciopero del 18 aprile scorso e che proseguirà il 10 maggio con una grande fiaccolata per il lavoro che muoverà da Piazza Castello. Prima lavoro e welfare, è lo slogan del 1 maggio torinese. Campeggerà sul tradizionale striscione d'apertura dei sindacati promotori del corteo che come sempre sfilerà da Piazza Vittorio, partenza intorno alle 9 per poi concludersi in Piazza San Carlo con comizio finale di Gianni Cortese, segretario della UIL. Davanti alla drammatica situazione economico-occupazionale del torinese, CGL e CISDW ritrovano l'unità e chiedono al nuovo governo un cambio di rotta immediato. 100.000 disoccupati, 25.000 lavoratori in mobilità, 85 milioni di ore di cassa integrazione, disoccupazione al 9,2% raddoppiata in quattro anni, ha ricordato Gianni Cortese. La forbice della disuguaglianza sociale non è mai stata così ampia, ha aggiunto il neosegretario CISL, Domenico Lobianco, invitando a una riflessione sul grave episodio che ha coinvolto i carabinieri di Palazzo Chigi. Il lavoro non è stato al centro delle politiche e dei passati governi, ha lamentato Donata Canta, segretaria della CGL torinese, ma dovrà esserlo, insieme al rifinanziamento della cassa in deroga e altre misure necessarie a sostenere chi ha pagato di più la crisi, lavoratori e pensionati.